TVA si aggiorna e cresce raggiungendo con la sua programmazione tutta Italia. L'emittente televisiva da più di 40 anni presente sul territorio con il digitale terrestre ha irradiato la sua programmazione fino alla bassa Calabria e ha deciso di dare ai suoi telespettatori al territorio che da sempre ha seguito e promosso una nuova opportunità tramite il canale 268 che dalle smart TV ci permetteranno di portare la nostra informazione, la Sicilia e Agrigento, in campo nazionale. Un'idea che si affianca a quella da subito avviata con l'avvento di internet tramite la web TV sempre attiva tramite il sito www.televideoagrigento.tv che ha portato la nostra voce in tutto il mondo unitamente ai nostri canali social e YouTube. Adesso abbiamo puntato ad una capillare copertura dello stivale. Per seguirci basterà effettuare tre semplici passaggi. Digitare sulla smart TV tramite il telecomando il canale 268. Cliccare sulla finestra in basso dove sta scritto TV locali. Si aprirà una pagina nella quale riconoscerete il nostro marchio TVA. Un ulteriore clic vi porterà alla nostra TV in diretta. TVA dunque da oggi diventa una TV nazionale.